La situazione epidemiologica questa settimana è stazionaria rispetto a quella della settimana passata e il tasso di incidenza di casi di Covid-19 sale di poco, fissandosi a circa 699 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT non si muove molto, siamo intorno a 0,93, quindi di poco al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area media e di terapia intensiva è rispettivamente al 15,6, al 3,8%, quindi stabile rispetto alla settimana passata. Data l'elevata velocità di circolazione del virus, l'incidenza ancora piuttosto elevata, è bene continuare la campagna vaccinale con le dosi di richiamo e mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza, quindi l'uso delle mascherine in luoghi chiusi, affollati e ovunque ci sia un rischio di contagio.